menta dove la isabella grande quindi se non è ancora creato delle difficoltà non so se tu l'isabella grande dove isabella grande non so se tu isabella vieni fuori vieni fori isabella grande comunque ti devo un consiglio se tu per caso qualora isabella grande avessi un fidanzato io non so se tu hai un fidanzato ma se tu avessi un fidanzato isabella grande non è finita isabella grande non è finita questa scrive poi sparisce a rapporto isabella grande a rapporto allora comunque stavo dicendo isabella grande a rapporto rispondi scrivi qualcosa isabella grande se tu avessi questa prende per il culo è ma che comunque isabella grande se tu avessi un fidanzato io non so se tu hai fidanzato isabella grande ma se tu avessi un fidanzato devi procurargli un po di difficoltà perché se tu non li procuri delle difficoltà si addorme sempre questa se tu non li procuri delle difficoltà ha fatto a presenza arriva e se ne va e non ho capito e gli davo i consigli e questa scrive gli davi consigli ma che c'è di meglio da fare questo che vuoi che ci abbia da fare isabella grande non c'è niente da fare ah è lì è arrivato arrivato quindi nel rapporto di coppia se tu per caso isabella grande avesse un fidanzato non so se ce l'hai o meno ma qualora avesse un fidanzato genera delle difficoltà